Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, bondi. Mi contava Elisute che quanchere frutte un amiche, Berta gli ha detto, ma tu varesti il tuo gusto di diventare amiche intime. Elisute gli ha detto, ma io non sai che c'è che roba lì. All'è che tu mi conti a me, dove c'è che tu sai, che ti hanno contato, dove c'è che tu pensi e dove c'è che tu provi e io con te ho fatto compagno. Un po' bene ha detto Elisute, no? E anche tu allora. E chi sta qua, mi contava sempre Elisute, mi diceva tu c'è che avevi detto che altri, ma non c'è che io pensavo e c'è che io provavo. E già lì mi sono sveate a conoscere le persone. Allora stai attenti, tutti. Ci sono certe persone che ti ruffiano e con tante grazie che arriva magari a copiarci anche la loro curiosità e ci riuscire a vedere tutti i vostri ravedoli. Allora, prima di tutto ci riuscire di non essere così. Seconda cosa, ci riuscire di non colare e vare di queste persone lì. Buone giornate e buone vite.